Ciao e benvenuto sul canale, io sono Marco e oggi ci troviamo a Fit Your Camp, la prima fiera dell'accessorio in Italia. Andiamo un po' a zonzo e vediamo se ci sono delle novità o cose interessanti. Ciao e benvenuto sul canale. Ciao e benvenuto sul canale. Ciao e benvenuto. 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 Ciao e benvenuto.